Ok, allora riprendiamo dopo l'intervallo forzato dall'interruzione del portale, esattamente dove siamo rimasti, fin dove è rimasta tagliata la discussione non ricordo, ma ricordiamo solamente ciò di cui stavamo parlando, su come evolvono gli indici, le variabili di controllo dei vari cicli quando abbiamo dei cicli annidati l'uno dentro l'altro. E quindi abbiamo sempre un ciclo esterno, per noi erano le righe, il ciclo interno per noi in questo esempio erano le colonne, ma poi in generale possono essere qualunque cosa, dipende da cosa stiamo facendo, dipende dal problema che stiamo risolvendo, ma la regola generale è che il ciclo interno gira più veloce, nel senso che per ogni singola iterazione del ciclo esterno, in nostro caso quello su X, quello interno fa tutti i valori che deve fare. È un po' come se avessimo, immaginate il contachilometri dell'auto, quando avete i chilometri e quindi la cifra dell'unità di chilometri, e la cifra delle decine di chilometri, questa viaggia più velocemente e solamente quando questa qui arriverà al 9 e poi passa lo 0, allora in questo caso questa qua dal 3 passerà al 4 e quindi immaginate che sia, diciamo così, un po' il ciclo interno, sono le cifre che si muovono più velocemente e quando termina il ciclo, diciamo si arriva fino in fondo, il ciclo dei valori per cui quella variabile interna ha terminato, diciamo arrivato al suo massimo, al suo limite, allora si incrementa di 1 il ciclo più esterno e riparte da 0, o da 1, insomma dal valore iniziale, il ciclo più interno. Quindi questo è il modello che vi avevo già introdotto ieri verso la fine della lezione, e chiaramente oggi, avendo fatto questi due esempi, spero che sia più chiaro, sia sul discorso del ciclo dei dati per la validazione dell'input, abbiamo fatto come primo esercizio questa mattina, e quest'altro sulle tabelle bidimensionali, come abbiamo visto, è più facile partire da un esempio perché si capisce perché introduco il doppio ciclo e quindi capisco anche meglio come sta funzionando. Poi, avendo un po' di abitudini su questo, diventerà sempre anche più facile per voi riuscire a leggere un doppio ciclo o una struttura più complicata e sapere cosa sta facendo e perché. Su questa linea ci sono, vabbè qui ci sono i vari esempietti, ci sono parecchi tipi di giochini che si possono fare, sempre giocando, ma semplicemente come allenamento sui doppi cicli. Qui il libro e le slide ne riportano alcuni esempi, ad esempio, che siamo così, sono quasi tutti della tipologia, disegna una figura fatta di asterischi, una figura di varie forme. Allora, in questo caso ti chiede di disegnare un rettangolo di tre righe di quattro colonne di asterischi. E in questo caso vorrà dire che ragioniamo in stesso modo, io ho tre righe, ogni riga corrisponde al ciclo esterno, in questo caso è chiamato I, e ogni riga è divisa in quattro colonne, quindi ogni singola colonna e corrisponde a un'interazione di un ciclo più interno, che in questo caso è chiamato J. E vedete che tre e quattro sono la dimensione delle righe delle colonne, e all'interno del ciclo farò una stampa di un singolo asterisco, quindi una singola cella, e poi alla fine della riga, qua, metterò il mio a capo, che corrisponde alla print senza nulla. Quindi, quello che potete provare a fare è, beh, questo qua è esattamente la stessa cosa, invertendo le righe con la colonne, mettermo il ciclo esterno con quello interno. Abituiamoci al fatto che le variabili di controllo possono avere qualunque nome che noi gli diamo, decidiamo di dargli, in questo caso spesso saranno I e J, I o I J K, nel caso in cui avessimo tre ciclone di dati, perché ovviamente nessuno mi vieta di fare un terzo, però nel caso precedente le abbiamo chiamate X e P perché ci aiutava a capire meglio quale fosse il significato di quel valore, non necessariamente la chiamo X, e la I come numero di riga va bene, X come il valore di allevare la potenza è più chiaro ancora. Quindi io non voglio, cioè così, vederli caso per caso, ma provateli, poi in laboratorio ci saranno anche esercizi di questo genere, provate un po' a pensare a come ottenere forme di tipo diverso, ad esempio questo triangolo qua, come lo ottengo? Ebbè, questo triangolo sarà fatto di quattro righe, ma le righe non sono tutte uguali questa volta, nelle righe dovrò scrivere solamente nella prima riga un asterisco, nella seconda riga due asterischi, nella terza riga tre asterischi, nella quarta riga quattro asterischi. E va bene, in generale, in generale, io devo riuscire a fare questo passaggio concettuale, nella riga I, di indice I, quindi I vale 0, vale 1, vale 2, quanti asterischi dovrò stampare? E devo stampare I più 1 asterischi. Perché se I vale 0, quindi sono sulla prima riga, I uguale 0, devo fare un asterisco. Seconda riga, I uguale 1, devo fare due asterischi, e così via. Quindi ogni volta sulla riga iesima dovrò fare I più 1 asterischi. E questo qui lo vediamo qua, nel senso che il ciclo più esterno viene eseguito quattro volte, 0, 1, 2, 3, il ciclo più interno viene eseguito I più 1 volte, dove I è l'indice dell'iterazione più esterna. Quindi se I vale 0, I più 1 vale 1, e quindi il ciclo sulla prima riga, cioè quando I è uguale 0, il ciclo interno viene eseguito una volta. Range di 1, quindi 0. J è uguale 0 e basta. Alla seconda iterazione abbiamo I uguale 1, e quindi questo range andrà fino a 2, quindi assumerà due valori, 0 e 1, e quindi stamperò due asterischi, e così via. Quindi in questo caso il valore della variabile esterna, della variabile di controllo del ciclo esterno, influenza il numero di iterazioni che vengono fatte nel ciclo interno. Se il numero di iterazioni, il numero diciamo di colonne, fosse costante, avremo sempre delle cose rettangolari. Se invece il numero di colonne dipende dalla quale sia la riga su cui mi trovo, allora riesco a ottenere anche delle forme più strane. Provate, vi suggerisco di farlo per pratichirvi, ad esempio questo qua col triangolo di asterischi, a fare i passaggi a mano, l'entracing delle istruzioni, oppure attraverso il debugger, capire passo a passo come funziona. E sono esattamente gli stessi ragionamenti che abbiamo fatto per la tabella delle potenze, più semplificati. E poi chiaramente ci sono delle cose più curiose, delle forme strane, ci sono delle cose alternate, per cui vado a vedere, non guardate questa, non guardate la soluzione prima di farlo, e poi dopo che l'avete fatto, cercate di verificare se capite come è stato fatto nel libro, perché questo si può fare almeno in 40 modi diversi, ci mancherebbe. E quindi, sì, io già l'avrei fatto in un modo diverso, ma non importa, l'importante è avere la scacchiera ottenuta così, oppure trattini alternati, ci sono varie forme, nel laboratorio ne proponiamo un paio di esercizi anche su questa forma qua. Non servono a niente questi esercizi, se non a impratichirsi bene su come gestire questi vari cicli, su questi vari indici annidati. A questo punto io volevo, visto che stiamo chiudendo, completando questo argomento, vi salterei questo esercizio che trovate sulle slide, che in realtà è molto simile a quello che abbiamo fatto all'inizio, sui due cicli annidati di input, semplicemente qua ci sono due cicli, uno che conta il numero di studenti, e l'altro che conta i voti di quegli studenti e quindi ne calcola le medie. Ma mi piacerebbe invece parlare di altri due esercizi insieme a voi. Uno è... Passiamo da questo, scusate, vado in un ordine leggermente diverso, solamente per impiegare meglio il tempo. Questo capitoletto, elaborazione di stringhe, voi dite che cosa c'entra nell'elaborazione di stringhe che abbiamo già fatte, in un capitolo, in un'unità che parla di cicli. Ecco, perché le stringhe ovviamente sono delle sequenze, quindi finora abbiamo giocato su cicli, doppi cicli, che usavano numeri. Vabbè, sul ciclo for abbiamo fatto vedere che può iterare anche sulle stringhe, ma vediamo un po' il fatto che il ciclo for possa iterare sulle stringhe, che cosa ci permette di fare. noi alcune analisi sulle stringhe le sapevamo già fare, tipo, sono maiuscole, sono minuscole, sono fatte di numeri, sono fatte di lettere, ma perché c'era già una funzioncina che faceva il lavoro per noi. Se invece qualcuno mi dicesse, ma quante volte compare un certo carattere, o una certa sequenza di caratteri, oppure quante volte abbiamo due vocali consecutive, perché se io ti chiedo un singolo carattere, quante volte compare la X, voi mi dite, c'è il metodo count? Benissimo. Se però ti chiedo quante vocali compaiono, e non c'è il metodo count per fare, per contare le vocali, potresti contare le A, poi le E, poi le I, poi sommarli, è un modo, oppure analizzi la stringa secondo qualche regola, non diciamo così, che ti sei dato, in un certo senso, no? Qui ci sono alcuni esempietti che in realtà si risolvono con cicli di tre righe, ma ci servono per aiutarci a ragionarci. Ad esempio, voglio sapere in una stringa quante lettere maiuscole ci sono. Allora, io ho la funzione isapper che mi dice se una stringa è tutta maiuscola. Ma qui il problema è diverso, la stringa magari è un po' maiuscola, un po' minuscola, magari io ho la stringa che si chiama A, B, C maiuscolo, D maiuscolo, F minuscolo, per dire, e quindi devo dire che questa stringa contiene due lettere maiuscole. complessivamente se io chiamo isapper su questa stringa mi dice falso, no, non è maiuscolo, perché isapper è soddisfatto solamente se tutte le lettere sono maiuscole. Quello che devo fare è prendere i caratteri uno alla volta e chiedermi tu sei maiuscolo? No. Va bene. Tu sei maiuscolo? No. Tu sei maiuscola C? Sì, allora conti uno. Tu sei maiuscola D? Sì, allora facciamo due. La F non è maiuscola e quindi non aggiunge. Quindi in qualche modo io analizzo uno per uno i singoli caratteri della stringa, se quel carattere soddisfa il criterio che sto cercando, quindi in generale il match, il criterio di corrispondenza che sto cercando, allora incremento un contatore. Il codice lo vediamo qua sotto. Io questo codice di fatto lavora con un contatore, un, sì, uppercase, cioè maiuscole, lo inizializzo zero e lo incremento all'interno di un ciclo. Quando lo incremento? Beh, allora il ciclo itera sulla stringa. Carattere in stringa, ogni iterazione del ciclo sarà un singolo carattere. Su questa mia stringa di esempio A, B, C, D, F questo ciclo for farà cinque iterazioni. A minuscolo, B minuscolo, C maiuscolo, D maiuscolo, F minuscolo. e ad ognuna delle cinque iterazioni il valore della singola lettera, ad esempio la prima iterazione la minuscolo viene messo dentro CH, dentro questa variabile CH. E quindi fate attenzione al trucco, io vado a chiedere non all'intera stringa se è maiuscola, ma al singolo carattere, perché CH alla prima iterazione vale A, alla seconda iterazione vale B, alla terza iterazione vale C, ma C grande. E quindi chiedo, la prima volta sto facendo, A minuscolo, 6 maiuscolo, e lui mi dirà no, falso, e infatti all'interno di questa IF, in corrispondenza dell'A minuscolo, non faccio nulla, perché questa condizione è falsa, e non incremento il contatore. La stessa cosa su B minuscolo, quando a un certo punto farò C maiuscolo, punto isapper, lui mi dirà sì, e quindi eseguirò questo incremento e incrementerò il contatore di 1. Quindi qui stiamo combinando le cose che sappiamo, un ciclo for con dentro un IF che va a controllare un carattere con una funzione che già conosciamo su controllo, cioè sull'analisi delle stringhe e dei caratteri. Quindi quello che stiamo facendo da adesso in avanti vi rendete conto è combinare tra di loro le cose che già sappiamo per risolvere problemi che prima invece non potevamo affrontare. Ricordiamoci solo che quest'istuzione for ch in string di fatto quello che fa è prendere una stringa fatta di tanti caratteri e la spezza in tante stringhe singole fatte di un carattere solo a ciascuna. Quindi il singolo ch che abbiamo qui è una stringa fatta di lunghezza 1 sempre per definizione per costruzione. Ok? Questa può avere una lunghezza length di stringa che non sappiamo quale sia 1, 2, 5, 10 ma è sicuro che length di ch vale sempre 1 sempre Quindi prende e se la lunghezza della stringa fosse 10 questo ciclo for viene eseguito 10 volte ciascuna 10 volte con una stringetta ch di un carattere solo di lunghezza 1 che ovviamente va a prendere poco per volta i caratteri della stringa grande Ok? Perché arriva da altri linguaggi in python non esiste nessun tipo di dati carattere cioè il singolo carattere è comunque una stringa stringa di lunghezza 1 e questo vuol dire che tutte le funzioni che conosciamo già sulle stringhe funzionano anche sui singoli caratteri Altro esempio ma è la stessa cosa contiamo le vocali quante vocali sono presenti in una stringa Anche qua prendiamo un carattere per volta e ci chiediamo sei tu una vocale e come faccio a sapere se un determinato carattere è una vocale o no? Beh se andate a cercare is vocale o is consonante non lo trovate nelle funzioni se non c'è una funzione me lo faccio io e quindi ad esempio posso chiedere se un carattere è all'interno di una stringa che ho costruito io che contiene le le cinque vocali quindi in questo caso non sto sto usando l'in un po' al contrario rispetto a come facevamo prima prima usavamo l'in per cercare se dentro la stringa c'era un carattere magari cerchiamo gli spazi c'è uno spazio nella stringa spazio in c'era il punto decimale nella stringa punto in valore qui stiamo usando il contrario stiamo prendendo un singolo carattere della stringa verifichiamo se all'interno di un set di caratteri permessi o desiderati o che voglio contare e se sì ne tengo conto in questo caso incremento un contatore sapendo che poi questa operazione di controllare un singolo carattere io la ripeto la itero tante volte quanti sono le lettere o i caratteri della stringa di partenza la stessa cosa no qui sono tutte variazioni sul tema in generale quando vogliamo cercare se è una condizione vera molto spesso si può impostare un ciclo for sul carattere stesso però se invece avessimo bisogno anche della posizione se uno mi chiedesse senti dimmi quali sono le posizioni di tutte le lettere maiuscole all'interno di una stringa allora non mi serve solo dire che ho una c e una d tornando a due pagine prima mi dici ho due lettere sono c e d sono entrambe maiuscole quindi in totale erano due ma se mi chiedono sì ma dove sono io dovrei dire sono nella posizione 3 e 4 ricordiamoci che contiamo da 0 0 1 infatti ho sbagliato 0 1 2 e 3 nella posizione 2 e 3 devo stampare le lettere maiuscole sono nella posizione 2 e nella posizione 3 come faccio a farlo beh in questo caso non posso fare un for i carattere in stringa perché mi darebbe i caratteri uno per volta come abbiamo fatto ma non mi dice dove sono questi caratteri e in questo caso allora useremo il solito ma l'abbiamo già visto prima il solito trucco range di length quindi vado a vedere vado a costruire una sequenza di numeri interi un range di numeri interi che varia tra 0 e la lunghezza della stringa meno 1 chiaramente e allora i non è il singolo carattere ma è l'indice della posizione del carattere e quindi per sapere qual è il carattere lo devo andare a pescare a prendere con l'operatore parentesi quadra per indicizzare il primo secondo il terzo il quarto carattere della stringa quindi abbiamo queste due forme per analizzare il contenuto delle stringhe for carattere in stringa oppure for intero in range di lunghezza della stringa in entrambi i casi analizziamo i caratteri ma nel primo caso avremo ad ogni interazione la singola stringhetta lunga 1 nel secondo caso invece avremo i numeri interi che correspondono all'indice dall'indice posso sempre risalire il carattere non è vero il viceversa una volta che ho il carattere non posso sapere qual è l'indice Lorenzo mi indica una cosa che effettivamente è sbagliata la slide grazie per la segnalazione questo non è char ma ch chiaramente questo qua deve essere uguale a questo grazie correggiamo la 99 fatemi prendere un appunto slide 99 char diventa ch ok cosa succede invece se mi chiedono la prima occorrenza di una cifra numerica in una stringa cioè immaginiamo di avere una stringa che contiene lettere e numeri e mi chiedono qual è la posizione del primo numero che compare dentro la stringa allora questo di per sé posso impostare un ciclo che va che itera sulle posizioni da zero fino a lunghezza della stringa la differenza e quindi per ogni posizione mi chiedo quella posizione lì è una cifra decimale oppure no quindi fino qua nulla di strano la cosa la cosa diversa è che se mi dicono che mi devo mi devo fermare appena ho trovato la prima occorrenza quindi la stringa potrebbe essere lunghissima ma a me interessa solamente sapere dov'è il primo numero e poi quindi posso fermarmi non ho bisogno di scandire l'intera stringa ma solamente la porzione di stringa finché non trovo ciò che stavo cercando allora in questo caso devo avere una condizione di terminazione duplice cioè il ciclo while deve andare avanti finché non ho raggiunto la fine della stringa e la fine della stringa la raggiungerò solo quando non trovassi nessun numero se non c'è nessuna cifra io vado avanti 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 prima o poi arriverò alla fine oppure seconda condizione di terminazione quando quando trovo una cifra numerica allora a questo punto avrò un flag che mi farà uscire se non ho ancora trovato la cifra numerica e non sono ancora alla fine della stringa vai avanti e vai avanti cosa vuol dire controlla se questa posizione è una cifra se è una cifra esci quindi di che l'ho trovata e quindi se dico che l'ho trovata found uguale true alla prossima iterazione il ciclo while esce perché la condizione diventa falsa se invece non è ancora una cifra non l'ho trovata found rimane falso e incremento la posizione di 1 quindi mi porto al carattere successivo perché abbiamo fatto vedere questo esempio ma perché vabbè a parte che è una combinazione un po' diversa delle altre cose che conoscevamo ma si itera su una stringa usando un while e non un for perché? ma perché la condizione di uscita è più complicata il for è tanto comodo perché si esercisce da solo la variabile di controllo ma è più limitato perché se lui inizia dal primo carattere della stringa va fino in fondo oppure fino al numero che gli dico mentre qua come dicevamo abbiamo una condizione duplice lunghezza della stringa oppure trovato l'elemento e allora in questo caso siamo obbligati a usare la forma generale di ciclo che è quella dell'istruzione while dunque Alessio mi chiede se ci vuole minore o uguale direi di no perché ricordiamoci che i caratteri di una stringa vanno da 0 alla lunghezza meno 1 quindi se la position fosse già uguale alla lunghezza della stringa quindi immaginiamo la stringa di 5 caratteri length di string vale 5 i caratteri sono in posizione 0 1 2 3 4 se per caso position fosse uguale a 5 e non esiste già più il carattere 5 perché il carattere 5 sarebbe il sesto carattere e quindi se mettiamo un minore uguale qui all'ultima iterazione questa string di position ci dà errore perché cerchiamo di accedere a un carattere che non esiste c'è una funzione che restituisce vero se la variabile esiste e falso se la variabile non esiste no le variabili quando le interrogo devono esistere e quindi la devo comunque sempre inizializzare è comunque un errore cercare di usare una variabile se questa non l'ho creata non l'ho inizializzata prima quindi non c'è nessun modo allora né Lorenzo né Virginia non sono convinti che usare il ciclo while in questo caso sia utile allora un ciclo for aiutatemi a scriverlo allora io a questo punto dovrei scrivere for carattere in string al posto di questo ciclo while ok quindi questo string di position me lo posso evitare perché sarebbe semplicemente carattere e quindi se lo trova questo else position non mi serve più perché e non ce l'ho qua perché va avanti da solo il ciclo for il problema qual è che questo ciclo for mette found true quando ha trovato una cifra ma poi va avanti cioè se la mia stringa fosse a 7 b c d e f k l 9 e 9 3 punto esclamativo io qua mi devo fermare quando ho trovato il 7 invece questo ciclo for ch in string mi arriverebbe andrebbe comunque avanti fino in fondo tutte queste cifre qua in poi non mi serve guardarle quindi uno sto sprecando tempo due attenzione se ci sono delle altre cifre dopo come il 9 che avevo messo qua rischiano di essere considerate loro come la cifra che mi interessa mentre io invece l'ho trovato questa lei è quella che mi interessa e mi devo fermare quindi in questo caso il numero di iterazioni che deve fare questo ciclo non è noto a priori il numero di iterazioni non è uguale alla lunghezza della stringa il numero di iterazioni nel caso peggiore è uguale alla lunghezza della stringa perché li cerco tutti e non ne trovo mai nessuno ma nel caso normale mi fermerò prima quanto prima non lo so non lo so perché finché non trovo l'elemento come faccio a dirti quando mi fermo e questo è il motivo per cui è necessario usare un ciclo che possa terminare in qualunque momento con una condizione complicata un pochino più complessa che l'ho trovato sì o no oppure ho finito la stringa su un for questo non lo posso fare perché il for è una condizione sola di uscita cioè esaurire la stringa dice Simone si potrebbe usare un ciclo for con dentro un break sì ma perché perché scrivere la stessa cosa in un modo più contorto perché poi alla fine il break è un'istruzione non strutturata se lo usi una volta non è un problema se cominci a usarlo sette volte nello stesso codice ti assicuro che dopo un po' ti perdi non sai più cosa stai facendo e questo non è che sia molto diverso è più esplicito quindi l'istruzione break esiste come vi ho detto ieri ma io non ve la spiego perché si può comunque risolvere qualunque cosa senza e ci obbliga a fare il ragionamento diciamo così compiuto su qual è la condizione di uscita se invece si comincia uno a mettere delle uscite anticipate qua e là rischia poi di fare la cosa sbagliata nel senso che poi esce nel momento sbagliato se hai più punti di uscita ok in questo caso tra l'altro poi l'esercizio mi chiedeva anche di stampare la posizione e quindi il cicloforo non mi dava la posizione della stringa quindi avrei dovuto comunque contarmi con un contatore il numero di iterazioni che passavano per ricostruirmi a mano con fatica diciamo così il contatore che invece nel ciclo while era già implicito vabbè ma questi sono dettagli se vogliamo come sempre la soluzione non mi stancherò mai di ripeterlo non è unica si può risolvere in tanti modi diversi noi cerchiamo di illustrare un pochino le varie casistiche così vi sapete diciamo anche organizzare se volessimo fare l'operazione inversa invece cioè troviamo il primo numero la prima cifra vabbè questo qui è quello che avevamo visto un ciclo while appena lo trovo alzo un flag e questo flag mi fa uscire dal ciclo ma se invece devo fare il contrario trovare invece l'ultima cifra beh ho modi diversi un modo è vabbè parto dal fondo trovare l'ultima cifra decimale all'interno di una stringa altro non è che trovare la prima cifra che incontro partendo dal fondo della stringa anziché partendo dall'inizio nessuno mi obbliga a fare un ciclo che parte da zero e va avanti io faccio un ciclo che parte dall'ultimo carattere della stringa cioè lunghezza meno uno occhio meno uno length string non è una posizione della stringa è già fuori e decremento fino a quando non arrivo fino a zero compreso lo zero è compreso perché è il primo carattere e quindi lo stesso identico algoritmo che avevo prima studiato per trovare il primo carattere in questo caso il primo carattere che fosse una cifra lo uso tale e quale cioè riuso il ragionamento che ho fatto prima allora c'è un ciclo for col flag che mi fa uscire l'indice che mi conta fino alla fine della stringa il ragionamento lo riuso che è la parte faticosa lo modifico un attimino ah beh aspetta se io inverto il ciclo lo stesso algoritmo lo posso usare per risolvere un problema diverso oppure potrei usare un un algoritmo diverso che va comunque avanti comunque sempre fino in fondo alla stringa e si ricorda la posizione in cui trova le cifre decimali e ovviamente questa posizione verrà sovrascritta aggiornata ogni volta che trova una cifra e quando esce dal ciclo sarà si ricorderà l'ultima posizione che ha trovato quindi potete anche volendo provare a farlo in quest'altro modo quindi ci sono molti algoritmi diversi però questo esempio qua è stato riportato proprio per dire da parte difficile è stato il ragionamento capire come funziona una volta che l'ho fatto con piccole variazioni l'ho dato a problemi diversi quindi mi riconduco al problema di prima con un piccolo lavoro di codice ma soprattutto con zero lavoro mentale che è quello più più difficile Andrea queste cose qui funzionano ma non non le voglio vedere questi test se le variabili esistono o no andano a interrogare il dizionario delle variabili locali fa parte della parte di codice che si chiama reflection in cui il codice interroga se stesso ma eviterei assolutamente di passare su questo piano perché Leng-1 come vi hanno già detto l'ultimo carattere della stringa non è quello nella posizione Leng ma è quello precedente ok altrimenti andate a prendere un carattere di troppo ok altro esempio qui mi dice dobbiamo controllare che una stringa sia un numero telefonico corretto numero telefonico valido e negli Stati Uniti i numeri telefonici si scrivono in questo formato dove al posto del cancelletto ci stanno a qualunque cifra tra 0 e 9 e poi ci sono tre parenti di quadre e un trattino allora come facciamo a verificare che una stringa inserita dall'utente abbia questo formato allora in realtà questo formato implica due cose uno che ci siano alcuni caratteri specifici in alcune posizioni ben precise uno due che tutti gli altri siano numeri quindi dobbiamo trovare la combinazione di queste due di queste due condizioni ci sono tanti modi di farlo proviamo a vedere quello che ci propone qua il testo lui dice guarda verifichiamo questo qui se è corretto allora la prima cosa che lui verifica è la lunghezza totale questi sono 3 più 3 6 più 4 10 cifre numeriche una parentesi aperta una parentesi chiusa e un trattino quindi in totale sono 13 caratteri e quindi inizializio subito un flag che mi dice la lunghezza è quella giusta se la lunghezza è quella giusta questo valid diventa true se la lunghezza già non fosse quella giusta è inutile che io vada a cercare i dettagli delle parentesi delle cifre eccetera non evaido fine quindi quindi ho inizializzato questa qua se vogliamo una scorciatoia ho inizializzato questo valid a true oppure false a seconda che questa uguaglianza sia soddisfatta oppure meno avrei anche potuto inizializzarlo a true e poi scrivere if not lang string uguale a 13 valid uguale a false l'avrei messo a false nel caso in cui questa uguaglianza non sia vera e questo valid cosa mi serve? mi serve per uscire dal ciclo cioè questo ciclo che analizzerà i caratteri uno a uno il ciclo che analizzerà i caratteri uno a uno dovrà uscire interrompersi appena trova qualche cosa che non funziona se la lunghezza della string è sbagliata e c'è già qualcosa che non funziona già fin dall'inizio se invece la lunghezza della string è giusta allora entro nel ciclo perché è valid uguale a uno e andrò a controllare i singoli caratteri e ad ogni singola posizione avrò una regola diversa da verificare perché Luigi mi dice che dovrebbe essere 14 a me sembra che siano 10 cifre questa qua è la lunghezza della string attenzione che prescinde da come si chiamano gli indici quanti caratteri ci sono in totale 1 che è la parentesi più 3 4 5 che è l'altra parentesi più 3 8 un trattino 9 e 4 cifre 13 quindi in totale sono 13 caratteri questi 13 caratteri dentro la stringa saranno ma questo non impatta sulla lunghezza dentro la stringa questi 13 caratteri saranno memorizzati dalla posizione 0 alla posizione 12 ok ok e poi qual è la la regola beh ad ogni iterazione ad ogni ciclo io vado a verificare se il carattere che trovo in quella posizione sia valido oppure no e valido può voler dire cose diverse a seconda della posizione ad esempio se la posizione è 0 allora devo controllare che il carattere sia un'aperta tonda carattere 0 è questo se la posizione è 4 0 1 2 3 4 deve essere una chiusa tonda se la posizione è 5 6 7 8 deve esserci un trattino e quindi se la posizione è 0 e la posizione della stringa non è ricordate che questo vuol dire non uguale vuol dire diverso la posizione della stringa è diverso da aperta tonda oppure se sono nella posizione 4 e non trovo una chiusa tonda oppure se sono nella posizione 8 e non trovo un trattino oppure se sono in qualunque altra posizione e non trovo un digit allora valid diventa falso quindi questa valid sappiamo che è vero perché sono entrato nel ciclo while e ogni volta lo ricalcolo dico sei ma tu adesso adesso che sono in una posizione 4 è ancora valido o no? è valido e allora se fosse una cifra un numero una stringa che deve contenere tutti i digit semplicemente userei questo è valido se è un digit in realtà questo test se è un digit vale solamente per le posizioni che sono diverse dallo 0 dalla 4 e dall'8 negli altri casi dovrò mettere dei controlli diversi quindi in questo caso controllare che sia una cifra controllare che sia un trattino eccetera eccetera non mi convince tanto il diverso perché adesso ci ripenso perché ci avremmo se fosse un uguale se la posizione è 0 è valido se la posizione è 0 e la stringa è uguale all'aperta tonda che dite oppure è valido se la posizione è 4 e in questa posizione l'ho trovato io avrei messo un uguale qua ma dobbiamo provare incrementare la posizione qui sotto mi chiedono cosa serve e serve perché siamo in un ciclo while e quindi la variabile di controllo posizione non si incrementa da sola non è che se ho scritto questa espressione qua in automatico come fosse in senso matematico position è una variabile libera che può assumere tutti i valori possibili contemporaneamente quindi è una variabile che contiene un valore alla volta quindi io parto da 0 e poi 0 1 2 3 fino al carattere 12 quindi non essendo un ciclo form un ciclo while la variabile di controllo me la devo incrementare da solo sì l'uguale o diverso dipende da come imposto i valid ma qui il valid è impostato come vero se devo iterare e quindi vero vuol dire che il carattere è ancora buono e quindi posso andare avanti e io qua ci avrei messo l'uguale magari lo proviamo visto che ci stiamo proviamo a fare diciamo così numero telefonico quindi noi avevamo fatemi prendere da qua il codice e mettiamo la stringa questa maledetto sia tu ok e poi c'erano sempre un po' di problemi di copia e colla position guarda che rabbia position non è scritto uguale cosa mi stai cercando di dire ah c'erano due punti che non c'entra niente qua ok anche nella slide c'erano due punti che non c'entrava nulla ok quindi questo qua mi dovrebbe dire alla fine se valido e infatti mi dice falso quando in realtà è vero quindi ci vorrebbe un uguale qua ok se io poi invece al posto di un trattino ci mettessi un simbolo diverso mi dovrebbe dire che è falso poi ci rimetto il trattino al posto del 7 ci metto una lettera mi dice che è falso però se ci rimetto il 7 mi dice che è vero ok abbiamo debagato il codice sulle slide quindi il codice giusto è questo che adesso ve lo faccio vedere ok 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 quindi probabilmente qua è stato rivisto più volte valido uguale vero valido uguale falso è rimasta una versione non finita e non testata vedete che succede normalmente non mi vergogno di aver trovato degli errori anche su un codice che abbiamo guardato copia e incollato e verificato ma poi alla fine degli errori ci sono lo stesso quindi non vergognatevi neppure voi se fate degli errori è normale normalmente con tanti occhi gli errori si trovano più facilmente un modo per trovare gli errori è quello che sto facendo io cercare di spiegarvi come funziona e se poi mentre cerco di spiegarlo mi accorgo che non mi convince può darsi mettiamo pure in discussione il fatto che le cose possono essere giuste o no è normale come dicevo nella prima lezione che ci vuole tanto tempo per scrivere un programma se ci ho messo due ore per scriverlo ci vorranno probabilmente due ore per trovare gli errori che inevitabilmente avrò inserito quindi fa parte del normale programmazione ecco del normale metodo di lavoro poi c'è scappato due punti lì in mezzo che non c'entrava niente quindi mandava anche a pallino la sintassi ancora una volta una regola un motivo in più per provare a farsi davvero gli esercizi col compilatore piuttosto che non fidarsi di qualche cosa scritta ok volevo farvi vedere un altro esempio adesso torniamo indietro questo invece lo facciamo insieme lo costruiamo qui hanno alcuni esempi da vedere aspetta che mi sono perso dove era quello della Monte Carlo eccolo qua questi erano esempi molto semplici però consiglio non prendeteli sotto gamba sembrano semplici in realtà però sono la base per tutto ciò che segue dopo ok il fatto di trovare la prima occorrenza di una proprietà l'ultima contare il numero di volte che una proprietà è valida eccetera sulle stringhe sembrano problemi cretini ma in realtà il concetto è lo stesso si applicherà a problemi anche più complicati quindi diciamo così cercate di essere sicuri diciamo di padroneggiare bene questa parte avevo trovato interessante vedere un'applicazione sui cicli che può a volte semplificare certi tipi di calcoli noi useremo vi faccio vedere un metodo di calcolo che viene chiamato metodo cosiddetto Monte Carlo ad esempio viene usato per può essere usato per calcolare in generale delle soluzioni equazioni differenziali ma anche nel caso molto più semplice per calcolare degli integrali integrali poi alla fine voi sapete anche se non ci siete ancora arrivati in matematica sono delle aree e quindi un'area si può misurare andando a contare diciamo così i punti che sono al suo interno adesso vediamo come molti di questi algoritmi si basano sul fatto che il computer possa generare dei numeri casuali che ne so tutti i giochi tutti si basano su una certa casualità no? nel senso che se tu giochi a carte le carte ti arrivano in un certo ordine le 13 carte che ti danno sono ogni volta diverse se ho i dadi ogni volta esce un numero diverso con uguale probabilità se il dado non è truccato ma alla fine se voglio simulare che un programma possa permettermi di giocare a dadi io devo capire come fare a far estrarre un numero casuale dal programma stesso e questo si può fare facilmente in python perché esiste un modulo che si chiama random che contiene al suo interno varie funzioni appositamente per generare dei numeri cosiddetti pseudo casuali questa è la pagina di documentazione che parla del modulo random il modulo random contiene molte funzioni ad esempio ci sono funzioni che restituiscono dei numeri interi quindi se voglio un numero a caso tra 0 e 10 chiamerò run range di 10 sulle sequenze che in realtà non conosciamo ancora le sequenze valori reali numeri reali e la funzione più semplice che c'è in questo modulo è la funzione che si chiama random quindi random è sia il nome del modulo che è il nome della funzione che restituisce un numero floating point un numero reale compreso tra 0 e 1 con 0 compreso e 1 escluso tutte le altre funzioni in certo senso sono derivate da queste questo restituisce i numeri distribuiti in modo uniforme tra 0 e 1 se invece voglio i numeri casuali distribuiti in modo uniforme tra due estremi a e b posso chiamare il metodo la funzione scusate non mi metto la funzione uniform oppure ci sono tutti numeri che seguono distribuzioni diverse come ad esempio la gaussiana e cose del genere come la gaussiana la famosa gaussiana è qua di cui do la media e la distribuzione e la deviazione standard e mi restituisce dei valori casuali i valori veramente casuali non esistono ok infatti si parla di generatori di numeri pseudo casuali perché la vera casualità c'è solamente in natura il computer è una macchina deterministica cioè se fa 3 più 2 fa sempre 3 più 2 quindi internamente l'algoritmo usa il computer in questo caso questa libreria random usa degli algoritmi particolari per generare dei numeri che sono difficili da prevedere imprevedibili e allora li chiamiamo pseudo casuali in realtà non sono per nulla imprevedibili perché lui li calcola e li calcola sempre esattamente nello stesso modo solo che questa sequenza di numeri casuali normalmente viene inizializzata quando il programma parte tenendo conto della data e dell'ora del computer e quindi ogni volta che il programma parte questa sequenza di numeri viene inizializzata in un modo diverso e il programma vedrà dei numeri diversi ogni volta però sono dei numeri che dipendono da un seme di partenza vedete che qua la prima funzione che vi porta è un seed che dice da quale punto di partenza inizia a lavorare il generatore di numeri pseudo casuali e come vedete la documentazione dice che se io non imposto il seed viene usato il system time cioè l'ora del computer l'ora attuale del computer quindi ogni volta generare dei numeri diversi quindi questo significa che se io vado a prendermi una console python e importo from random import random ho importato la funzione random dal metodo random se chiamo questa funzione mi restituisce un valore completo da 0 e 1 ogni volta che chiamo questa funzione la chiamo più volte mi restituirà sempre valori diversi con uguale probabilità ogni valore nell'intervallo completo da 0 e 1 questa è una delle tante funzioni che ci sono nel metodo nel nella libreria nel modulo random questo ci può servire appunto sia per gestire dei giochi quindi tiro un dado il dado sarà tra 1 e 6 allora come faccio però a convertire questo valore in un numero tra 1 e 6 beh non c'è nulla di più facile che moltiplicarlo per 6 e prendere la parte intera cosa ho fatto random mi dà un numero reale tra 0 compreso e 1 escluso random per 6 mi darà un numero reale tra 0 compreso e 6 escluso quindi il massimo sarà 5,999 la parte intera la parte intera mi darà un numero intero tra 0 e 5 scusate quindi alla fine per ottenere il valore di un dado devo sommarci 1 al fondo e quindi ogni volta che calcolo questa funzione mi darà un numero diverso con uguale probabilità tra 1 e 6 questo usando la funzione random che è la funzione di base poi come qualcuno fa notare esistono anche delle funzioni in questa libreria che abbiamo appena visto che lavorano già sui numeri interi ad esempio randrange mi istituisce già un numero tra 0 e n-1 oppure randint mi istituisce un numero tra un punto di partenza e un punto di arrivo entrambi compresi con questi minori uguali quindi qui dentro dentro questo modulo random potete importare la funzione che vi serve e potete generarvi i numeri che vi possono servire Matteo mi dice che per avere 6 non possiamo moltiplicare per 7 no perché in questo caso avrai 7 valori diversi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ci sarebbe anche lo 0 invece lo 0 lo devo togliere quindi calcolo il numero tra 0 e 5 e poi ci sommo 1 per averlo tra 1 e 6 mettiamo il più 1 perché altrimenti esatto come dice Lorenzo è giusto mettiamo il più 1 perché altrimenti andrebbe tra 0 e 5 allora cosa ce ne facciamo di questi numeri casuali oltre che giocare ai dadi come fa ad esempio questo esempio di programma che simula usando randint in questo caso anziché random dei numeri tra 1 e 6 estrae il primo dato il dado scusate il secondo dado generando il numero tra 1 e 6 e poi mi stampa la coppia di valori che è stata diciamo così appena calcolata e vedete che ogni volta sono diversi io volevo farvi vedere un altro esempio invece di un calcolo matematico che usa le proprietà di numeri casuali cioè immaginiamo di voler calcolare l'area di un cerchio o meglio noi sappiamo che l'area del cerchio è pi greco r quadro e quindi volerci determinare quanto vale pi greco voi dite lo sappiamo già mat.p e lo so che mat.p è già il valore di pi greco però proviamo a vedere se avessimo questo problema di calcolare l'area di questa figura geometrica che in questo caso è un cerchio come possiamo fare a ottenerla senza impazzire con gli integrali ovviamente dal punto di vista numerico non dal punto di vista analitico allora l'idea quale potrebbe essere allora io posso in questo caso inscrivere il mio cerchio in un quadrato e quindi è facile il cerchio di raggio 1 si inscrive in un quadrato di lato 2 va bene dopodiché immaginiamo di tirare delle freccette a caso all'interno del quadrato quindi estrarre casualmente dei punti all'interno del quadrato alcuni punti cadranno dentro altri punti cadranno fuori allora se io conto il rapporto la frazione tra quanti punti cadono dentro e quanti punti cadono fuori dal quadrato ok questo rapporto a tendere quindi all'aumentare del numero di dadichi di lanci che faccio diventerà sempre più vicino al rapporto tra le due aree tra l'area del cerchio e l'area del quadrato circoscritto ok nel quadrato sono tutti dentro per costruzione ed è facile generare dei punti casuali all'interno del quadrato perché basta prendere la scissa tra meno 1 e più 1 e l'ordinata tra meno 1 e più 1 e a questo punto ogni qualunque combinazione mi dà un punto qualunque all'interno del quadrato però poi vado a vedere quanti di questi punti cadono dentro il cerchio e di fatto vado a vedere che soddiffino la disequazione base che definisce il cerchio quindi x quadro più 1 quadro sia minore o uguale del quadrato del raggio quindi 1 in questo caso e conto quanti cadono dentro rispetto a quanti ne ho lanciati il rapporto tra quanti punti cadono dentro e quanti ne ho lanciati è uguale al rapporto tra le due aree e quindi da questo rapporto posso ricavare l'area del cerchio e facendo la radice quadrata troverò la radice quadrata il raggio vale 1 quindi non c'entra troverò quindi il valore di pi greco proviamo a farlo allora prendiamo senza senza sbirciare sulle slide senza guardare dopo che è risolto questo metodo si chiama metodo di Monte Carlo è un metodo questo è un esempio molto semplice però il concetto che sta alla base è il fatto di partire da generare tanti numeri casuali un po' come al Casinò Monte Carlo viene preso da quello dal fatto che c'è il famoso Casinò e usarlo per stimare dei valori di calcoli numerici che a volte sono troppo complicati da fare ok in questo caso l'area del cerchio lo sappiamo tutti calcolare ma come principio si può applicare anche a casi diversi purché abbiamo una semplice regola che mi dice chi sta dentro e chi sta fuori io con questo metodo riesco a approssimare l'area della figura se ho la regola che mi dice anche se questa figura è una forma strana complicata che io non saprei integrare essenzialmente allora come facciamo noi lanciamo dei facciamo molti tentativi ad esempio quante ne facciamo noi facciamo mille e ad ogni tentativo cerchiamo di generare un punto all'interno del quadrato quindi ad ogni tentativo genero un punto e poi mi chiedo se il punto sta dentro o fuori rispetto alla figura che sto cercando di misurare quindi faccio mille tentativi vuol dire che ho un ciclo for che mi serve semplicemente a ripetere tante volte il lancio del singolo dato il lancio del singolo punto l'estrazione casuale del punto poi per ogni tentativo cosa devo fare genero un punto a caso punto casuale in meno uno uno cartesiano meno uno uno nel quadrato i cui lati vanno da x uguale meno uno a x uguale più uno e le ordinate dall'altro lato va da y uguale meno uno a y uguale più uno e poi verifico se il punto è interno al cerchio faccio queste due semplici operazioni generare un numero casuale significa prendere x uguale allora andiamo a importare from random import andiamo un po' a vedere la libreria cosa mi dice a me servono non dei numeri interi ma dei numeri reali quindi vado avanti ecco qua valori distribuzioni con valori reali posso prendere questo valori uniformi tra a e b ok mi restituisce un numero casuale floating point tale per cui questo numero sia maggiore o uguale di a su il primo argomento che gli passo e minore o uguale di b cioè il secondo argomento che gli passo quindi posso usare questa funzione e importo la funzione uniform dalla libreria random from random import uniform quindi all'inizio del programma mettiamo le importazioni delle funzioni di libreria che ci servono e quindi in questo caso sarà molto semplice perché mi basta generare per x un valore casuale uniformemente distribuito tra meno 1 e 1 per y un valore casuale uniformemente distribuito tra meno 1 e 1 e poi e quindi ho stato un punto qualsiasi all'interno di quel quadrato che abbiamo visto prima il quadrato rosa adesso ci chiediamo il punto per caso è fuori o per caso è dentro al cerchio e beh questo lo posso fare semplicemente verificando se x al quadrato più y al quadrato x per x più y per y è minore o uguale a 1 mettiamoci un po' di spazi se non si capisce niente allora avrò il numero di avrò un tentativo andato a segno quindi interno uguale interno più 1 ovviamente interno sarà un contatore che inizializzo a 0 prima del ciclo e vado avanti così faccio tanti tentativi ne faccio mille e alla fine mi ricordo quanti sono i punti che sono casualmente casualmente estratti caduti dentro il cerchio vediamo un po' cosa esce io posso stampare alla fine interno virgola tentativi ci stampiamo solamente per per debug proviamo a farlo funzionare alla fine lui mi dice 795 1000 cioè ho fatto 1000 tentativi di cui 795 erano caduti dentro il cerchio ovviamente questo è casuale quindi se io lo ripeto questo primo il secondo numero sarà sempre 1000 il primo numero ogni volta varierà 780 783 803 770 806 è chiaro che è un valore casuale che è un certo errore è un certo range di oscillazione noi l'abbiamo ottenuto estraendo così rispondo anche a Lorenzo dei numeri casuali che sono distribuiti tra il valore minimo meno 1 e il valore massimo più 1 questo uniforme li dà distribuiti in modo uniforme uniforme vuol dire che ogni numero ha la stessa probabilità di essere estratto mentre invece altre distribuzioni ad esempio quella gaussiana dà maggiori probabilità i numeri vicini alla media e minore probabilità i numeri più più lontani dalla media adesso 1000 è un po' poco probabilmente però questo 799 cosa c'entra col pi greco chiediamoci ancora questo 799 è il numero di campioni che sono finiti dentro su 1000 campioni testati che abbiamo detto dovrebbe essere uguale al rapporto tra le aree quindi troviamo una proporzione da quarta elementare interno stati tentativi come area cerchio sta ad area quadrato giusto allora l'area quadrato la sappiamo quindi fatemi evolvere questa cosa area quadrato è 4 perché 2 per 2 l'area di cerchio è pi greco per pi greco per r al quadrato ma r vale 1 per 1 al quadrato quindi vale pi greco quindi la nostra stima di pi greco la possiamo ottenere risolvendo questa cosa dicendo che è 4 per interno diviso tentativi quindi diciamo che il mio pi greco è uguale faccio il calcolo 4 per interno interno diviso tentativi print pi greco vale vale pi vediamo quanto quanto ci dice questo qua lo possiamo a questo punto commentare ci dice che pi greco vale 3,19 oppure 3,12 oppure 3,18 oppure 3,13 è chiaro che ogni volta essendo una combinazione di mille numeri casuali può darsi che ci sia un po' di oscillazione poi chi fa statistica sta anche valutare l'entità dell'errore se da mille ne facessimo un milione sì probabilmente ci mette qualche secondo in più e mi dà un valore che è decisamente più realistico rispetto al pi greco che conosciamo fino a tre cifre decimali le beccate giuste poi non so se io lo ripeto mi dà di nuovo la terza cifra decimale è un po' ballerina le prime due sembrano già più stabili quindi in questo caso abbiamo fatto dei calcoli diciamo così semplicemente di aritmetica banale e poi con una proporzione finale abbiamo trovato quello che potrebbe essere una stima per un'area di una figura complessa quindi generando questi numeri cosiddetto la Monte Carlo cioè numeri casuali ogni volta diversi se guardate la soluzione che c'è nelle slide genera numeri casuali in modo leggermente diverso quindi anziché usare la funzione uniform ha generato la funzione random che mi dà un valore casuale tra 0 e 1 e poi ovviamente per ottenere un valore tra meno 1 e più 1 ha dovuto moltiplicare per 2 il random e quindi da 0 1 l'ha trasformata in un intervallo 0 2 e poi l'ha shiftato a sinistra di 1 e quindi ha sottratto 1 quindi questa espressione qua meno 1 più 2 per r serve per trasformare il numero r che poiché esce dalla funzione random è distribuito all'intervallo da 0 1 e lo trasforma invece in un numero sempre casuale per un intervallo tra meno 1 e più 1 quindi questo tipo di trasformazioni sono trasformazioni lineari semplici sono semplici da ottenere noi che siamo stati più furbi siamo andati a guardare la documentazione e ci siamo accorti che guarda caso c'era già la funzione che ci serviva e quindi scrivere uniform tra meno 1 e 1 oppure scrivere random e poi moltiplicare per 2 random e sottrarre 1 è esattamente equivalente è esattamente la stessa cosa anzi se andate a vedere la documentazione vi dice che dentro la funzione uniform fa esattamente questo ok moltifica random per l'ampiezza dell'intervallo valore assoluto di a meno b e poi gli somma il valore di partenza che in questo caso era meno 1 Christian mi dice se ripeto tutto più volte faccio una media sì ottengo un risultato che tendenzialmente dovrebbe essere più preciso ma alla fine per il tipo di calcolo che facciamo corrisponde esattamente a aumentare il numero di tentativi quindi anziché un milione facciamo 10 milioni o quello che vogliamo chiaro che non è un modo molto efficiente perché se abbiamo un calcolo esatto che mi dà questo valore possiamo usarlo mentre invece qua per avere più precisione dobbiamo spendere più tempo di calcolo ok un altro invece uso questo qua un altro uso e quindi arriviamo alla fine dei dei valori casuali è proprio dei giochi e quindi usiamo l'ultimo quarto d'ora per fare qualcosa un pochino più divertente no che ovviamente in un quarto d'ora riusciremo ad abbozzare a iniziare ma poi essendo una cosa meno noiosa dell'area del cerchio magari vi viene voglia di provare a finirlo proviamo a immaginare di voler realizzare un programma che ci permette di giocare a blackjack un programma in python che giochi a blackjack contro l'utente adesso questa è un'affermazione molto spessa molto impegnativa ne faremo una versione iper 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 semplificata facciamo finta che ci sia una mano molto semplice con un giocatore solo quindi il banco dà le carte e c'è un giocatore solo e per chi non sapesse le regole del blackjack semplicemente tu hai delle carte in mano e ogni volta puoi decidere quindi ti danno due carte ogni volta puoi decidere se ti fermi oppure vuoi una carta in più se vuoi una carta in più hai un punteggio che appare alla somma delle carte che hai ricevuto vince tra i due giocatori quindi il banco e il giocatore colui che ha il punteggio più alto senza superare 21 quindi vince chi si avvicina di più al 21 senza superarlo se tu hai 22 sei fuori hai sballato e quindi vince l'altro come possiamo semplificare queste regole del gioco poi la regola è molto complicata si punta ci sono le puntate le fiche eccetera eccetera ma facciamolo semplice allora facciamo finta che il computer si dà una carta da solo e dice al giocatore che carta ha estratto il computer poi dà due carte al giocatore il due carte è il minimo per giocare senza con una carta non ci fai nulla in base alla somma delle carte ricevute il giocatore decide se riceve un'altra carta oppure no quindi il giocatore dice ne voglio una hit dammela ancora una oppure basta mi fermo mi bastano queste stay a questo punto il giocatore quindi la sua mano consiste nel decidere se vuole ancora una carta o no e a un certo punto dire basta sarà il giocatore che sa vedendo le sue carte quale punteggio ha se per caso la somma delle punteggi delle carte del giocatore ha superato il 21 il computer lo ferma e dice no guarda tu hai sballato e quindi ho vinto io viceversa se il giocatore si è fermato con un valore inferiore a 21 minore o uguale a 21 allora il computer deve giocare lui perché se il giocatore sballa cioè supera il 21 il computer non deve neanche più giocare ha vinto in automatico se invece il giocatore non sballa ma si ferma un valore valido tocca al computer giocare e quindi il computer che a questo punto deve decidere per se stesso quante carte vuole e lì chiaramente c'è tutta l'intelligenza del computer noi magari decidiamo di usare un algoritmo cretino che dice se per caso ho meno 17 prendo se più 17 mi fermo e se è maggiore di 21 ovviamente ho perso ok Lorenzo mi chiede come si fa a indicare più vicino a 21 e no no non c'è un modo per dire più vicino a 21 così in automatico e devi dobbiamo costruire noi usando il confronto maggiore uguale minore costruire il valore che ci serve Jacopo mi dice giustamente che fai attenzione che quando estrai i numeri casuali se sono già usciti tutti i 7 è probabile che di 7 non usciranno più e quindi devi tenere conto che le carte nel mazzo via via si esauriscono queste sono le regole scusate di vittoria leggiamole solo un attimo insieme se il banco supera a 21 vince il giocatore a questo punto eravamo il banco giocava se il banco supera a 21 il giocatore vince se il giocatore supera a 21 vince il banco se tutte e due si fermano a un valore minore di 21 vince chi ha più punti chiaramente a parità vince il banco se hanno i stessi punti vince il banco per semplicità noi possiamo nella prima versione poi siete liberi di farla più bella che volete la prima versione io direi facciamo finta che il mazzo sia infinito cioè se abbiamo un mazzo infinito allora vuol dire che le carte la probabilità con cui escono le varie carte sarà uguale per tutte non cambia non cambia anche estraendole poi nella realtà non è così quindi dovremo poi complicarci la vita per fare il mazzo finito però come prima versione facciamo finta di avere infinite carte quindi ogni volta che estrago posso stare sempre sette e continuo a essere sempre la stessa probabilità di vincere sette facciamo anche finta che non ci siano le figure che l'asso valga uno e i valori delle carte siano tra uno e dieci semplifichiamolo e non preoccupiamoci neanche del seme che poi in realtà il blackjack non serve a niente sì nel caso di pareggio vince il banco è una regola del blackjack come le sette e mezzo che è la variante italiana del blackjack stesso quindi partiamo da queste semplificazioni qua e se invece poi volete possiamo invece potrete dopo che abbiamo fatto la versione semplificata aggiungere il fatto che abbiamo le carte estratte dai mazzi e quindi la probabilità diminuisce il valore dell'asso in realtà nel gioco vero il giocatore può decidere se quell'asso vale uno o vale undici e quindi la logica di gioco è un pochino più complicata eccetera eccetera allora proviamo un po' ad impostare questo gioco ok come lo possiamo impostare allora prima di tutto io farei un programma che gioca un turno solo un turno di gioco solo cioè gioca il giocatore gioca il computer se deve giocare e mi dice chi ha vinto partiamo da lì poi tutto questo blocco qui ovviamente andrà ripetuto perché la partita è fatta di più turni di gioco e poi dovrò tenere conto di quanti punti ha il giocatore quanti punti ha il banco di quanti punti ha il computer però anche qui facciamo un passo per volta ok poi si state già discutendo le strategie di gioco Anton Giungio mi dice guarda che se io vedo che il giocatore ha 18 e io ho già 19 mi posso fermare o evito di rischiare sì questo potrebbe essere nella logica di gioco del computer ci può stare allora come possiamo impostarlo allora partiamo sempre dallo schema generale quindi diciamo così che è la prima versione facciamo solo un turno di gioco poi questo turno lo inseriremo in un ciclo per fare la partita fatta di più turni ma risolviamo un problema alla volta non prima ma prima allora cosa dobbiamo fare prima cosa abbiamo detto che si estraggono le carte quindi abbiamo detto che primo computer estrae una carta per sé due questo dicono le regole computer estrae due carte per il giocatore tre a questo punto il giocatore gioca permettiamo al giocatore di giocare e quindi può essere quindi giocare significa può fare stay può fare hit oppure può sballare poi dopo che il giocatore ha giocato gioco il computer il computer gioca solo se il giocatore non ha sballato se il giocatore non ha sballato il computer gioca con la sua logica con una logica che definiremo affineremo via via ad esempio quella che c'è nella slide è un primo esempio semplice della logica a questo punto il computer a un certo punto si può fermare oppure sballa anche il computer prescando una carta gli viene una carta che supera 21 oppure decide sulle basi dei suoi criteri della logica di gioco si può fermare e quindi alla fine come ultimo passaggio decidiamo chi ha vinto si decide chi ha vinto in funzione di chi ha sbagliato quindi solo utente oppure utente più computer cioè l'utente si chiama giocatore oppure solo il computer oppure nessuno non è possibile che sballino entrambi perché se l'utente sballa per primo il computer non gioca neppure e poi quanti punti ci sono a ciascuno se nessuno ha sballato questa è la logica della singola partita di gioco allora come lo lo realizziamo il primo punto quindi passiamo punto per punto la tradurlo in codice il computer estrae una carta per sé quindi semplicemente come chiamiamo le variabili possiamo avere due variabili che tengono conto del punteggio del punteggio come numero di carte del computer e del punteggio del giocatore chiamiamolo banco e non computer dai quindi estraiamo una carta uguale lo estraiamo a caso e poi diremo che i punti del banco inizialmente sono uguali alla carta al valore di quella carta questa carta sarà un valore casuale tra 1 e 10 quindi possiamo usare andiamo a vedere la libreria random numeri interi quindi torniamo indietro render range di 10 o randint tra 1 e 10 randint quindi importiamo import randint from random e ovviamente non funziona perché si scrive il contrario scusate from random import randint quindi carta sarà un randint da 1 a 10 e i punti iniziali del banco saranno la carta io dirò all'utente il banco ha la prima carta poi computer estrae due carte per il giocatore quindi estrago una carta di nuovo tra 1 e 10 e quindi dirò il giocatore o estratto hai la carta carta estrago la seconda carta non è più intessa scusate print estrago la seconda carta chiamiamola carta 2 e ti dirò hai la carta anche carta 2 e quindi alla fine io posso sapere che i punti giocatore sono uguali a carta più carta 2 questo è un valore Riccardo che ascolta un'altra lezione in concorrenza con la mia e sono geloso punti giocatore sarà la somma delle due carte i punti giocatore e punti banco servono al computer per sapere chi ha vinto ma non li devo visualizzare cioè il giocatore si farà il conti a mente e questa è la parte iniziale se io lo eseguo dici che il banco ha 4 tu hai un 2 un 10 se lo rifaccio il banco ha 3 e tu hai un 3 un 6 e così via a questo punto gioca il giocatore gioca il giocatore e io devo permettergli di fare diverse azioni cosa vuoi fare? e diciamo che devi inserire una H per hit oppure facciamo così in italiano C uguale carta L uguale lascia F uguale ferma e quindi ripetiamo l'acquisizione di un dato finché finché azione non è F perché F gli fa fermare il gioco oppure ha sballato o punti giocatore diventa maggiore di 21 lui può giocare fino a che o dice basta e si può anche fermare subito oppure ha sballato giusto? allora a questo punto chiediamo chi cosa ha voluto fare se ha scelto carta quindi if azione uguale carta allora estraggo una nuova carta quindi rifaccio esattamente la stessa cosa che c'era scritta qua estraggo una nuova carta ti faccio vedere quella che ho estratto e aggiorno i punti punti giocatore uguale punti giocatore più se ho messo c se a questo punto i punti giocatore e beh basta altrimenti se l'azione fosse f che è l'altra azione permessa cosa devo fare else cosa devo fare negli altri casi allora nell'ultimo caso ovviamente devo stampare azione non vaida se l'azione fosse f devo fare qualche cosa allora punti giocatore non devo incrementare la carta non la devo estrarre quindi in realtà non devo fare nulla magari se lo conferma dico ok dunque garriere mi dice beh certo certo ho sbagliato io la condizione della riga 20 grazie della segnalazione allora io devo continuare a giocare se se l'azione è diversa da f e and i punti giocatore sono minore uguali di 21 ho ragionato sulla condizione inversa di uscire invece nel while devo scrivere la condizione per rimanere dentro punti giocatore uguali punti giocatore più uno è una figata programmare con voi perché con tutti gli errori che faccio me li correggete subito e non li devo cercare io dopo e quindi non è più uno ma più carta quindi ritorniamo al while devo permettere al giocatore di andare avanti solo se non mi ha detto basta e non ha ancora sballato quindi i punti sono minore uguali a 21 se vuole una carta gliela estraggo e quindi qua abbiamo detto un random quindi il mazzo è infinito e quindi non teniamo conto di quante carte sono ancora rimaste nel mazzo e poi sommo ai punti giocatore ai punti giocatori quelli della carta ovviamente se poi questo punti giocatore diventasse maggiore di 21 mi rende falsa questa condizione che rende falsa complessivamente l'end quindi la condizione del while e quindi uscirà comunque se azione uguale a f non entra proprio nel ciclo esatto io posso fermarmi già sulle due carte che ho posso decidere di non prenderne altre poi mi manca attenzione si ha ragione anche christian che mi dice però così vado avanti all'infinito sì perché io mi sono alla fine come ultima istruzione prima di ricominciare il ciclo dovrò leggere la prossima azione quindi questa è la prima azione che leggo poi elaboro questa azione e poi leggo l'azione successiva che sarà pronta per la volta successiva azione uguale a f va a verificare che cosa deve fare il programma quando l'utente ha inserito f giustamente voi mi dite non è possibile entrare nel while se ho inserito f quindi è vero questo non serve a niente perché se azione fosse uguale a f io non sarei proprio entrato nel while quindi in questo caso non si può mai verificare meglio cancellarlo Lorenzo e altri mi dicono ma perché usi carta qui che lei ha usata sopra allora per me carta sono variabili usa e getta perché quello che rimane nella memoria del gioco sono solamente i punti poi ogni volta estraggo una carta incremento i punti estraggo una carta incremento i punti noi non siamo ancora capaci a ricordarsi tutte le carte che sono uscite in sequenza quindi abbiamo un'unica variabile che si ricorda solo l'ultima carta che ho estratto poi l'informazione importante sulla base della quale si deciderà poi l'esito della partita ovviamente sarà il confronto della somma dei punti Paolo mi dice dovremmo mettere un if se i punti sono maggiori di 21 no perché se i punti diventano maggiori di 21 qua ah no hai ragione certo è vero è vero non devo chiederti l'approssimazione l'approssimazione te la chiedo solo se non hai ancora sballato quindi if punti giocatore è ancora minore o uguale a 21 beh no minore perché se è uguale a 21 ti fermi in automatico per definizione se è minore di 21 ti chiedo cosa vuoi fare ancora quindi vediamo un po' se con queste correzioni di cui vi ringrazio la cosa ha un senso dunque ho meritato i due punti dopo l'if questo è facile allora hai carta 8 hai carta 3 facciamo fin di far ferma e il programma esce se faccio run di nuovo invece voglio una carta 1 quindi 5 più 1 6 e 1 7 ancora 7 e 2 9 ancora 9 e 2 11 maledizione adesso arriva il 10 quanto era 11 più 7 è 18 potrei fermarmi se andassi ancora avanti mi esce un 10 28 e ho sballato alla grande succede sempre che ti avvicini a poco per volta e poi tanti arriva la fregatura ok qui se vogliamo diciamo ma solamente per debug possiamo stampare i punti giocatore per vedere se il programma li ha calcolati giusti quindi se io mi fermo subito mi stampa 10 che è 8 più 2 provo a prendere una carta e fermarmi quindi carta ferma 5 più 8 più 5 fa 18 giusto proviamo a sballare carta carta 26 ho sballato e me lo dice ok quindi questa è solamente una print di 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 confronto quindi alla fine di questo while io sono uscito in due casi nel caso in cui ho deciso di fermarmi e nel caso in cui ho superato il 21 Antonio mi dice dovresti mettere un minore anche qua dunque fatemi ragionare se io avessi esattamente 21 punti ha senso che il programma mi chieda ancora che cosa vuoi fare no quindi è giusto mettere un minore giustamente mi fai notare che la condizione che metto qua e la condizione che metto qua deve essere la stessa perché altrimenti andrei su al while con una condizione diversa rispetto all'if e quindi rischierei di controllare questa condizione senza aver chiesto la nuova azione quindi è giusto così nell'esempio non siamo se no salta fuori un ciclo infinito in cui non fa nulla quindi a questo punto possiamo dire qualcosa al giocatore quindi chiediamo se possiamo fare un controllo che dice if giocatore punti giocatore uguale 21 possiamo dire complimenti altrimenti altrimenti se il punti giocatore maggiore di 21 gli diremo è sballato altrimenti gli diremo adesso due punti gli diremo adesso gioco io se vogliamo possiamo dire anche quanti punti ha visto se lui magari non è capace a fare i conti hai punti punti complimenti perché hai raggiunto il 21 ma non è detto che tu abbia vinto quindi già complimenti adesso gioco io complimenti hai 21 adesso gioco io così e quindi proviamo di nuovo se mi fermo mi dice hai 8 punti adesso gioco io ho dimenticato uno spazio se vado avanti e mi fermo mi dice di nuovo ho 8 punti adesso gioco io proviamo a sballare carta hai 21 uno guardate che è arrivato 6 più 10 11 più 5 21 per fortuna abbiamo testato anche quel caso invece del caso in cui sbagliamo avevo 17 mi ha dato un 8 hai sballato e quindi questa è la parte di codice che ha come scopo quello di calcolare i punti del giocatore i punti del giocatore potranno essere minori uguali o maggiore 21 e e e e sulla base di questo il programma deve andare avanti facendo giocare il computer quindi il computer ovviamente farà delle sue scelte estrarrà delle carte deciderà se estrarle o no quindi se andare avanti o fermarsi e alla fine avrà un valore finale per punti 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 del banco punti banco li abbiamo dimenticati qua li abbiamo inizializzati con la prima carta e poi qui giocherà la logica di gioco del computer se volete per avere per non inventarvele una da zero potete copiare quella che era suggerita qua nella slide quindi se punti banco minore di 17 allora prendi una carta se punti banco maggiore di 17 mi fermo se ho sballato invece vabbè mi fermo lo stesso qualcuno di voi diceva se io adesso già ho dei punti banco che sono maggiori o uguali a quelli del giocatore mi fermo comunque anche se fosse più piccolo di 17 qui potete mettere la logica che volete quindi ci sarà un ciclo while in cui il computer gioca fino a quando non decide di fermarsi sulla base del suo criterio oppure fino a quando non ha sballato e alla fine dovremo mettere le ultime istruzioni che vanno a verificare punti giocatore punti computer e dicono chi ha vinto queste ultime due parti lascio che vi divertiate voi così vi divertite la logica del giocatore era semplice era blindata perché è il giocatore che decide cosa fare la logica del banco cioè del computer invece ci possiamo diciamo così sbizzarrire e cercare di farlo vincere di fare un computer che ci batta facilmente e ovviamente poi alla fine sono un paio di if per dire chi ha vinto e chi non ha vinto ok quindi vi lascio divertirvi a completare questo esercizio poi ce lo scambiamo online e vediamo chi l'ha fatto più bello o chi riesce a vincere contro l'altro possiamo anche fare i tornei se volete nel tempo libero diciamo così dei prossimi giorni potete provare a giocare su questo e diciamo così discutiamo sulle possibili strategie venerdì invece avremo il laboratorio è il primo dei due laboratori che si concentrano sui cicli il secondo sarà il giovedì prossimo sarà ancora un laboratorio sui cicli quindi due settimane le abbiamo usate per affrontare l'argomento useremo due settimane per di laboratorio per cercare di di metterlo in pratica a questo punto mi scuso per aver sforrato qualche minuto però eravamo troppo presi dal gioco come al solito vi lascio poi questa bozza di di file a disposizione per chi volesse dare un'occhiata a guardarlo e adesso quando chiudiamo la lezione rispondo alle ultime domande che sono rimaste in sospesa nella chat noi ci vediamo di sfuggita il giovedì e poi la settimana prossima inizieremo il nuovo argomento ossia le funzioni grazie di tutto e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti